Il decreto scuola si può considerare ormai virtualmente convertito in legge. Mancano ancora alcuni passaggi istituzionali importanti, ma il più è fatto. Lo scoglio più ostico è stato infatti superato nel pomeriggio di mercoledì 27 con il voto favorevole della Commissione Cultura del Senato. Per la verità, fino all'ultimo istante non sono mancati i colpi di scena, come quello legato al voto sull'emendamento presentato dal senatore Demo Francesco Verducci, che proponeva di calcolare il punteggio finale dei candidati al concorso mettendo insieme prova d'esame, titoli e servizio, in modo da consentire l'immissione in ruolo anche di precari con molti anni di servizio ma con un esito scadente nella prova. Tutto il centrodestra ha votato insieme con Verducci che però non è riuscito a raccogliere neppure un voto fra i senatori della maggioranza e così l'emendamento non è stato approvato. Dopo due giorni di trattative, incontri più o meno ufficiali, telefonate, interventi ai massimi livelli, alla fine la soluzione è stata trovata. Il concorso si farà ma non ci sarà il test a crocette da farsi nel mese di agosto, in quanto la prova sarà formata da un certo numero di quesiti a risposta aperta che si intenderà superata solo con un punteggio di almeno sette decimi. L'emendamento approvato in commissione chiarisce che la prova si svolgerà nel corso dell'anno scolastico 2020-21 e comunque quando sarà scomparso il rischio epidemia. Per coprire le cattedre vacanti a settembre si procederà con assunzioni a tempo determinato da farsi sulla base delle graduatorie di istituto che diventeranno però provinciali. In tal modo il 2020-21 inizierà con il più alto numero di precari mai avuto nella storia, 200.000 ma forse anche di più, tanto che i sindacati hanno già proclamato lo stato di agitazione e parlano apertamente di un possibile sciopero. Nel corso del dibattito in commissione sono state approvate anche altre modifiche importanti a partire da quella contenuta nell'emendamento della senatrice Dem Vannaiori che prevede che a partire dal prossimo anno scolastico nella scuola primaria non si useranno più i voti che saranno sostituiti da modalità di valutazione descrittiva. Importante anche la decisione di riconoscere ai precari con contratto al 30 giugno una carta del docente del valore di 300 euro per l'acquisto di hardware e software libri. C'è infine una buona notizia pure per i docenti che hanno lavorato sul sostegno e che potranno seguire un percorso agevolato per accedere alla specializzazione. In giornata, oggi giovedì 28 maggio, il decreto dovrà essere esaminato ancora dall'Aula del Senato ma non dovrebbero esserci problemi particolari in quanto il governo ha già annunciato l'intenzione di porre il voto di fiducia. A questo punto, mercoledì 3, la Camera potrà iniziare i lavori in modo da poter chiudere il tutto entro la data limite del 7 giugno. Intorno alla metà del mese la legge di conversione potrebbe quindi essere pubblicata nella gazzetta ufficiale ed entrare in vigore a tutti gli effetti. Ovviamente noi continueremo comunque a seguire il percorso del provvedimento e quindi seguiteci su questo canale ma soprattutto anche sul sito della nostra testata www.tecnicadellascuola.it Continuate anche a scriverci, a inviarci i vostri commenti, le vostre osservazioni, noi ne daremo conto come sempre. Grazie a tutti.